Mi sono messo in Ghingeri per sostituire Pietro Bossella e per festeggiare l'anno nuovo e l'inizio è il giorno di ritorno dove la volley soverato e qui abbiamo coach Barbieri affronterà un'ostica trasferta con legno, col dente avvelenato. Sì, troviamo una squadra che ha fatto benissimo all'andata di 3-2 per noi, è una squadra molto temibile, ha fatto un ottimo girone d'andata, forse anche sopra le sorprese perché non si pensava a una squadra così forte, perciò complimenti a loro. Una squadra giovane, una matricola, ma il soverato a questo punto non può guardare più in faccia a nessuno, vincere, vincere, vincere. Sì, beh, dico che malgrado tutto le ultime tre sconfitte in casa possono pesare perché comunque a livello mediatico pesano molto, ma comunque la classifica non è certo una brutta classifica, anzi avremmo firmato per essere qua, poi come giusto che sia si pensa sempre che si potrebbe avere tre punti in più, ecco questo, ma il problema è che questo lo pensano tutti. Perciò non è male la classifica, lo ripetiamo, possiamo crescere, possiamo fare ancora meglio e proveremo a farlo comunque. Coach Barbieri e il suo staff studiano ogni partita come se fosse una finale, detto tra noi, tanto non ci sente nessuno, come si batte questo collegno? Ma sicuramente battendo molto bene, abbiamo bisogno di una buona battuta e ci stiamo lavorando perché ogni tanto non la sappiamo gestire in alcuni momenti e questo è un aspetto molto importante e l'abbiamo detto, qualcosina in più dobbiamo averlo della difesa perché per rifrontare i mentali di prima linea, cioè muro, attacco, stiamo andando molto bene. Coach, lei all'inizio stagione ha dichiarato che è venuto anche un po' a studiare questo mondo meridionale, possiamo dire che se la passione viene da sud è fondamentale un coach che ci metta la testa anche nei momenti difficili? No, ho detto che non conoscevo, non conoscevo la Calabria e ho avuto la fortuna di conoscere tanti aspetti, non solo quelli della pallavolo, come ho detto in altre occasioni mi ha fatto crescere pallavolisticamente ma anche come uomo e ho trovato delle qualità importanti. Sicuramente come tutte le cose ci sono delle qualità ma ci sono anche dei difetti che bisogna migliorare, cerchiamo di farlo ogni giorno come società però devo dire che ho scoperto un posto meraviglioso. Una battuta la possiamo fare, il campionato è come se fosse una piccola guerra sportiva, coach Saia e coach Secchi, due ex, sono venuti qui a vincere una battaglia ma a fine campionato quando vedremo la classifica coach Barbieri avrà vinto la guerra? Ma no, io dico sempre che per l'allenatore contano i risultati, i risultati sono le vittorie e perciò al momento nessuno qua è ancora riuscito a vincere un campionato o una cupa e vediamo cosa faremo noi nei prossimi anni. Ecco questo, io auguro le fortuna a tutto, anzi io sinceramente di campionati da due mio 23 e auguro a tutti quelli che lo fanno di provare le soddisfazioni che ho provato io. Potremmo anche aggiungere che il Piemonte potrebbe essere la terra di svolta della stagione del Soverato anche perché tra un po' di tempo si andrà a Mondovì, partita secca per le Final Eight. Quella sì, quella sì perché quella sarà forse la prima partita decisiva del campionato dove sarà dentro fuori, finora non ci sono state ancora partite che hanno dato i verdetti e noi sappiamo che per noi sarà molto molto difficile ma ci proviamo perché abbiamo le qualità per farla. Allora noi la ringraziamo per la disponibilità, le auguriamo in bocca al lupo e insieme ai telespettatori di S1 TV le facciamo un po' in ritardo gli auguri di buon compleanno perché il 27 dicembre al di là dei risultati sportivi è stata una data importante. Sì sì sicuramente, grazie per gli auguri e mi approfitto per fare gli auguri anche per il nuovo anno a tutti voi della televisione e tutti i telespettatori. Ed eccoci ora con Greta Valli, un elemento importante nella squadra del Soverato. Abbiamo chiesto a coach Barbieri come si batte il Collegno. Siccome mi sembra che in passato lei ha anche militato in quella squadra, può dirci qualche cosa in più? Allora sicuramente Collegno è una degnissima avversaria e fa secondo me della sua arma più temibile il gruppo. Il gruppo perché fanno tanti cambi, il gruppo perché sono una squadra che difende, cioè sono le squadre che noi chiamiamo tignose perché fastidiose. Magari non c'è il singolo che prevale ma sono una squadra molto unita e quindi un degno avversario. All'andata è finita 3 a 2, andiamo lì e mi ci metto anch'io per vincere. Certo, assolutamente andiamo per vincere anche perché rispetto al risultato dell'andata dobbiamo dimostrare che siamo cresciute, che è passato tutto il gironi di andata e quindi si sperano un risultato migliore. Nello spogliatoio che aria tira? Siete concentrate su questo match? Siamo concentrate, stiamo affrontando sicuramente un momento difficile dal punto di vista dei risultati. probabilmente neanche noi non sappiamo bene il perché, cioè c'è un calo magari fisico, una stanchezza mentale. Infatti io spero che nella prova di sabato ci sia soprattutto un atteggiamento giusto, poi il resto la tecnica, la tattica viene di conseguenza. Parlando di bilanci, Greta Valli ha conquistato tante volte sul campo la A2 e quest'anno la sta giocando. Un bilancio qui è soverato. Ma sicuramente è positivo per me, nel senso che spero di aver dimostrato che quando sono stata chiamata in causa sono riuscita a dare il mio contributo. È chiaro che dalla panchina si scalpita perché è normale, tutti vorremmo giocare, non esiste una squadra dove vogliono giocare e sei no. Però insomma, pian piano sto lavorando molto su me stessa, le mie compagnie mi aiutano, il gruppo anche, e quindi cercheremo di portare qualche risultato. Allora, noi tifosi facciamo gli auguri di buon anno, però anche le giocatrici del Sorato fanno gli auguri di buon anno e salutano gli influenzati, come ad esempio Pietro Mosella. Ok, un grande saluto allora Pietro, buona guarigione e buon anno a tutti, seguiteci.